Benvenuti agenti EPS 00B e 00G. Oggi avete da compiere una missione di estrema importanza. È in gioco il futuro del mondo intero. L'ambiente è in pericolo. L'inquinamento e lo spreco delle risorse stanno attaccando il pianeta. Siete pronti? Prontissimi capo. Siamo i vantaggi fatti persona. Fatti pannello. Ma le diremo di più. Grazie alle nostre armi speciali EPS questi problemi li abbiamo già risolti. Prima di tutto il nostro materiale piace alla natura perché è semplicissimo da riciclare. Fino a sette volte. Vero? Abbiamo sette vite come gatti. Una durata bestiale. E poi grazie ai vantaggi di noi EPS l'isolamento a cappotto è più efficiente. Isola meglio e resiste di più. Un vantaggio che non si deteriora nel tempo. Così garantiamo anni e anni di risparmio di combustibile. Meno inquinamento e l'ambiente ringrazia. D'altra parte non siamo speciali a caso. Non per darci delle arie ma siamo fatti al 98% di aria. Infatti siamo il risultato di una vera ingegnerizzazione dell'aria che ci ha reso a bassa impronta ambientale. Guardi qua. Visto capo? Anche se siamo leggeri non prendiamo le cose alla leggera. La sensibilità ambientale è una grande priorità di noi agenti EPS. Già. Siamo tipi quadrati. Ma facciamo girare l'economia come pochi altri. Tanto di cappello. Di più. Tanto di cappotto.